Amici della Lazio.com, una partita strana quella di questa sera da giudicare. La Lazio ha fatto quello che poteva giocando in 10 per quasi 70 minuti della partita, per delle stupitaggini un po' di Lazzari. Lazzari è mio pupillo quindi mi permetto di dirgli che quando sbaglia sbaglia. Per il resto bene perché comunque in 10 contro questa squadra che si è dimostrata superiore a quella della settimana scorsa, quindi direi alla fine un risultato che ci poteva stare. Adesso bisogna sfruttare quelle che sono la prossima partita in casa e poi andare in olanda a vedere che succede. Un applauso a tanto a chi è entrato, Filippo è entrato e è entrato bene. E poi i soliti, Immobile e Pedro, Pedro che ha 30 e rotti anni ancora come ragazzino all'esordio. Ciao a tutti, buona serata.